ciao a tutti sono daniele anelli consulente immobiliare della remax stella polare quest'oggi ci troviamo nel punto nevralgico del quartiere carrassi della città di pari quello che vi mostrerò è un ampio trilocale sito al terzo piano precisamente in via luta di samuele cagnazzi una delle traverse principali e più rinomante di via giulio petroni adesso sigla e ci vediamo all'interno eccoci benvenuti nella zona living come sicuramente avete notato veniamo subito accolti dal disimpegno io in questo momento sono nel salone guardate quanto è grande e dopo godetevi il resto della casa a seguire sulla nostra sinistra è presente un'ampia cucina con accesso al balcone proseguendo possiamo beneficiare di un grande bagno padronale dal salone doppio accediamo alle due grandi e luminose camere da letto entrambe con accesso al balcone dove potrete realizzare davvero qualsiasi cosa che ne pensate di questo appartamento la vicinanza a qualsiasi tipo di servizio e l'ampia metratura potrebbe soddisfare le vostre esigenze se la risposta è sì contattatemi per fissare un appuntamento